E' ormai addirittura d'arrivo l'accordo tra l'assessorato regionale alla sanità, le ASL, abruzzesi e i sindacati dei medici di base che così potranno effettuare le vaccinazioni anti-covid ai propri assistiti negli ambulatori e nei domicili di quelle persone impossibilitate ad uscire di casa. I medici di medicina generale sono pronti e attendono l'ok della regione. E' imminente la conclusione, ma non solo perché c'è la volontà sia da parte dei medici di medicina generale che da parte della ASL di Pescara di concludere l'accordo e di dare la disponibilità. I vaccini stanno arrivando e quindi appena arrivano i vaccini noi nel giro di qualche settimana potremo essere già operativi. Noi saremo impiegati a vaccinare soprattutto i pazienti allettati, contemporaneamente saremo disposti a fare chi nel nostro ambulatorio, chi invece nei centri dei presidi che verranno identificati dalle ASL e autorizzati a vaccinare anche a quel livello. Non saremo i soli a vaccinare perché ci sono tanti punti di vaccinazione che stanno restendo anche alcuni comuni. C'è una volontà totale a prendere in mano la situazione e a portare avanti questa vaccinazione che è un'arma molto importante per combattere questo virus e la sua diffusione che è molto più aggressiva di fronte ad altri virus che abbiamo avuto nel passato. Medici di base, medici di medicina generale, sempre in prima linea. È stato così in questo anno di pandemia e ora siete pronti anche a fare questo ulteriore passo? Noi siamo sempre stati pronti a fare questo tipo di azione e lo siamo tuttora. Noi abbiamo vaccinato gli anti-influenziali, siamo sempre in prima linea. Noi ovviamente riusciamo ad essere molto efficaci anche nelle vaccinazioni perché conosciamo già il paziente, conosciamo le criticità del paziente, se è allergico, se ha una patologia cronica in trattamento, non in trattamento, la sua intensità, la sua gravità e quindi riusciamo ad essere più adatti possibile alla situazione. Ovviamente non riusciremo a vaccinare in bellissimo tempo da soli tutta la popolazione perché è bene che anche altre forme di iniziative possano prendere il piede senza creare una competizione.